Ciao da Sandro Cane e ora testiamo il Dragoon Stella Rossa Sì, non ho finito ancora il bicicletto, ma è rilevibile ora Sto cercando di capire se ho alcuni problemi e ho già trovato che il racconto del crankset non è compatibile con il sensore Quindi funziona, ma fa qualche regolazione Quindi ho bisogno di trovare un altro racconto Come ho fatto con il Dere, con il Black Snow, il Dragoon e il Kilby Quindi ora stiamo rilevando, mia figlia sta rilevando la mia creazione Armageddon Sì, ho fatto anche la mia creazione, e stiamo rilevando la rive E presto ci sarà un piccolo parco, un piccolo parco Un piccolo parco Sì, stiamo rilevando la mia creazione Ok, non c'è problema Quindi siamo arrivati da un piccolo parco Sì, stiamo rilevando E stiamo rilevando E stiamo rilevando E stiamo rilevando E stiamo rilevando Apro il parco Ma il parco è solo per Pedorastia E stiamo rilevando Non possiamo rilevare Quindi Stiamo rilevando Stiamo rilevando E stiamo rilevando E sembra che tutto è ok Excepto Il rilevando Il crunch Quindi Ora 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 Ora